E' il quartetto più atteso, discusso, spoilerato, postato e rituitato della tv italiana. Sono i fantastici quattro membri della giuria di X-Factor. Per il terzo anno di fila, torna il suo fiuto per il talento. E' il remida del mercato discografico italiano. Con 21 dischi di platino, 8 d'oro e oltre un milione di copie vendute. Milioni di followers sui suoi canali social. Un fenomeno è il magnifico Fedez. Ritorna una delle personalità più amate. Artista sensibile, classica e moderna al contempo, è il lato femminile del giudizio. Sa riconoscere al volo il talento e premiarlo con uno dei suoi sorrisi o bacchettarlo con sincerità. E' con noi un'autentica diva, Arisa. 25 anni, un'energia vitale travolgente. Cantante eclettico. Giramondo, polistrumentista e poliglotta con il mismo song. Si è aggiudicato 5 dischi di platino nella sola Italia. Un successo che sta già venendo bissato dal suo nuovo singolo, Sofia. Benvenuto al solare, Alvaro Soler. Voce del rock indipendente italiano. Da 30 anni, leader degli After Hours. Creatore di suggestioni e sonorità che toccano nel profondo. Cultura musicale, esperienza e capacità di rompere gli schemi. L'uomo giusto per aprire a X Factor, orizzonti mai esplorati prima, è... Manuel Agnelli, Arisa, Alvaro Soler, Manuel Agnelli e Fedez. La giuria di X Factor. E' tra noi la musica. Non può più attendere. Grazie a tutti.